E adesso piantala, è questo il titolo del percorso di educazione ambientale voluto dal Circolo Rabat di Legambiente e di Agrigento in collaborazione con le riserve naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant'Angelo Muxaro. L'iniziativa che ha visto coinvolti gli studenti dell'Istituto Tecnico Superiore Brunelleschi di Agrigento ha sottolineato il valore fondamentale che le foreste rivestono per la vita del nostro pianeta. In seguito al progetto di Legambiente e adesso piantala, le classi prima e prima B dell'Istituto Brunelleschi di Agrigento ha seguito un percorso sull'educazione ambientale. Chiaramente è stato molto interessante vedere i ragazzi entusiasmarsi a questa attività. Un'occasione di formazione, incontro e confronto per gli studenti, un momento di promozione e sensibilizzazione alla cura dell'ambiente che più strettamente ci circonda e ci riguarda. E contro il degrado e l'incuria degli spazi pubblici, i ragazzi dell'Istituto Brunelleschi hanno adottato un'aiola dove hanno collocato 30 piante donate dall'azienda forestale di Agrigento. Uno degli obiettivi principali della nostra associazione è quello di sensibilizzare i ragazzi alla cura dell'ambiente e soprattutto ad abbracciare uno stile di vita sempre più sostenibile. E quale migliore conclusione poteva essere quella di un percorso che le due classi del Brunelleschi hanno condotto con noi, intitolato e adesso piantola, di prendersi cura di uno degli spazi dell'Istituto Scolastico.